bentornati sul vostro canale di pittura preferito grazie mille volte grazie come avevamo detto qualche tempo fa al raggiungimento di mille iscritti consapenti in studio vi avrebbe fatto regalo e così verrà fatto quindi dipingeremo un modello singolo quindi un eroe o un cavaliere qualsiasi cosa un modello da 28 bar 32 mm direttamente in maniera gratuita per un fortunato o una fortunata cosa dovete fare per partecipare a questo bellissimo bellissima promozione o bellissimo avvenimento bene dovete iscrivervi al canale mettere un like a questo video e ovviamente commentare in infobox con il nome del modello che volete dipingere a quel punto in maniera direttamente casuale e saremo uno dei fortunati o fortunata per la pittura completamente gratuita del vostro modello quindi ragazzi grazie ancora per tutto quello che avete fatto per noi per tutto il canale e spero in qualche modo anch'io riesca a sdevitarmi quindi queste sono diciamo ovviamente le parole che abbiamo dato e la parola che deve essere mantenuta quindi aspetto voi ancora mille volte grazie siete più di mille grazie davvero e ci vediamo molto presto sul vostro canale di pittura preferita grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti